quello che posso. Protagonista il cervello, sorprendente, meraviglioso organo, ancora semi sconosciuto nelle sue molteplici capacità, è incognito una nuova opera teatrale del giovane talentoso drammaturga inglese Nick Payne alla Cometa di Roma. La conoscenza è limitata, l'immaginazione abbraccia il mondo, sa chi ha detto questo? Chi? Einstein. 32 scene brevi, intrecci di tempo e di spazio, tre differenti storie apparentemente scollegate, protagonista principale il cervello e le conseguenze della memoria nella vita quotidiana e nel destino dell'umanità. Non mi dira quello che devo fare, piccola, piccola testa di cazzo! Tramete di presente indefinito, secondo la cifra zilistica del narratore emergente, il britannico Nick Payne, classe 1984, incognito o incognito. Nel debutto al Teatro della Cometa di Roma per la regia di Andrea Trovato. Incognito parla essenzialmente di cervello, di memoria, di quanto la nostra identità sia definita da ciò che ricordiamo. C'è una battuta che dice Marta a Patricia, che le dice che se noi davvero non possiamo ricordare chi siamo, noi davvero non siamo nulla. E questo è il cervello di un genio che deve essere studiato. Una storia immaginaria e due storie vere. Thomas Stoltz Harvey, che eseguì l'autopsia di Albert Einstein, ne sezionò il cervello alla ricerca della proteina del genio. Henry Moreson, che in conseguenza dell'asportazione di un pezzo di materia grigia per evitare crisi epiletiche, condannata ad un eterno presente, divenne incapace di avere ricordi oltre alcuni minuti, tranne l'amore immenso per la moglie. Marta, neuropsicologa, in una continua ricerca di irrazionalizzare in un conflitto perenne tra vita privata e vita professionale. Una narrazione scomposta che tiene alta l'attenzione del pubblico in esercizio mnemonico di ricomposizione del racconto, che mette a dura prova i quattro attori impegnati in sdoppiamenti multipli, per dare voce e corpo a 25 personaggi. E devo dire che è una grandissima opportunità, tutte le sere, tutte le sere, di rivedere dentro di noi, di riscoprire dentro di noi questa frammentarietà in cui tutti i personaggi in qualche modo sono l'espressione della nostra frammentarietà singola. Ecco, insomma, tutta questa carellata, devo dire che anche dopo tutto il seremo mnemonico per noi attori ci consente di rimanere costantemente attaccati al qui ed ora. Qualche volta qualcosa può, sembra quasi che sfunga, però grazie a Dio ci sono anche dei meravigliosi compagni in scena che ti permettono di ricordarti, anzi, certe volte ti dicono il nome per cui tu dici, ah ecco, sono io. Ed è interessante questo, è interessante perché forse è qualcosa che ha a che vedere anche con la vita. Un'estetica minimalista per un teatro di parola, in scena elementi essenziali e un pianoforte immaginario. Il cervello è l'interprete principale, il comune denominatore, il paradosso della memoria, indispensabile per vivere, ma la sua assenza a volte utile per sopravvivere. Nessuna crede in giro Tom, croce sul cuore. E siamo arrivati alla fine.